Buonasera, buonasera a tutti, sono tornato a fare un bellissimo provino per diventare promosso. Lui è il nostro provinante preferito, viene ogni volta qui sperando di poter fare un provino, presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Mario De Janeiro. Mario De Janeiro, è l'ultima portata di Made in Italy, è l'ultima possibilità che è per fare un provino per diventare un attore. Lo so, lo so, ho portato un film bellissimo che ho visto ieri sera in televisione per la prima volta. Bellissimo, il buono, il brutto e il cattivo. Per la prima volta, è un grande film girato nel... Nel Molise. Ma che Molise? È del 1966, diretto dal maestro Beppe Vessicchio. Ma no, Sergio Leone. Canta, Fiorella, Mannoia. Ma dai, Mario De Janeiro. Scusate, mi sono lasciato prendere... Cerchiamo di raccontare la trama così i più giovani che non l'hanno ancora visto cercano di capire, dai. Allora, la trama del buono, il brutto e il cattivo. Che devono trovare un tesoro, nascosto. Allora, cominciano a cercare questo tesoro e cerca, 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 e cerca, cerca, cerca. A un certo punto, all'improvviso, appare Alessandro Borghese. Alessandro Borghese. E non lo trovavano mai. E ti sei perso il finale. No, no, no. A un certo punto... Vai, fate cicca, cicca, cicca. E ho fatto cicca, 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 cicca. E ho trovato il finale. E ho trovato il finale. Bellissimo, bellissimo. E infatti questa sera ho portato come film il finale del buon, brutto e cattivo. Il buon, brutto e cattivo. La sparatoria, lì, quando... Sì, quando si fa il duello. E duello, e duello. Esattissimo. Allora. Però... Vogliamo farlo insieme. Allora, dividiamo i ruoli. Allora, io, scusate se ve lo dico, ma io ho sempre amato Clint Eastwood. Posso fare il buono? Ma meno male, meno male, perché a me è sempre piaciuta la parte del cattivo. E cioè, quindi il brutto lo devo fare. Per esclusione. Però lui era perfetto nella parte del brutto. Allora, ci siamo, signore e signori, la scena finale del buono, brutto e cattivo. Maestro, possiamo avere un po' di musica del film, insomma? Corriconata. Ecco, ok. Ehi. Ehi, gringo. Ehi, nano. Mi sono cedo a coprire, scusate. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Ah! Io muoro. Ah, guarda come muoro. Inchia. E muore, è morito. È morito. Cioè, è morito. È morito. È morito. Che coraggioso, però. Che coraggioso. È morito bene. Un applauso. Tiene stato un po' di musica. Ma è visto bravo. È solo me sono morito. È morito benissimo. È morito benissimo.